Allora io sono Alessandro Buonaccorso e sono il direttore artistico di Una Stella Sta Nascendo, il talent che ovviamente va in onda in tutta la Sicilia. Anche quest'anno stiamo preparando un'edizione molto esplosiva, stiamo già lavorando sugli ospiti, super ospiti che arriveranno proprio anche qui a Giarre. Anche sicuramente in questa nuova edizione faremo uno spettacolo veramente degno di un talent valoroso. Al Via, ieri pomeriggio al Palagiarre, le selezioni per il talent Una Stella Sta Nascendo. Una produzione della Conf Commercio Giarrese che avrà il suo apice con la finale in Piazza Duomo a giugno con diversi ospiti. Contentissimo di aver condiviso con l'organizzazione questo format. Conf Commercio continua il percorso iniziato a Natale per la valorizzazione dei giovani. Siamo in tutti i modi cercando di accendere i riflettori su Giarre. Giarre deve tornare ad essere il fulcro della bellezza dell'arte e del commercio. 130 cantanti in gara provenienti da tutta la Sicilia, selezionati di volta in volta durante un format che andrà in onda sulla nostra rete. Un programma che vuole promuovere la bellezza in tutte le sue forme. Abbiamo selezionato più di 80 concorrenti in tutta la Sicilia. Di ogni sesso ed età avrete modo di capire quanta bellezza abbiamo nella nostra terra. Per fare tutto questo tra l'altro vi invito a venirci a vedere nell'evento finale pubblico che avremo qui proprio in questa città e in presenza di ospiti dal mondo dello spettacolo davvero davvero coinvolgenti. Tra i giovani talenti anche Loriana Cimino che martedì scorso ha partecipato allo show di Rai 2 e The Voice of Italy. Quest'anno Giare sarà protagonista di questa nona edizione di questo ormai fortunato programma. Siamo qui in fase di casting perché il mese prossimo realizzeremo le puntate proprio in diretta dal Pallaggiare. Poi ci sarà un grande evento live che ci attende per Piazza Duomo per metà giugno.